La compagna di Daniele Bossari interviene sui social network in seguito agli attacchi subiti dal conduttore da parte di Moser e Rodriguez l'attacco di Geremias Rodriguez e Ignazio Mosera Daniele Bossari non è sfuggito a Filippa Lagerbac, compagna del conduttore e madre di sua figlia Stella. La svedese ha, infatti, commentato l'episodio sui propri profili social avvertendo la produzione del grande fratello VIP delle scorrettezze attuate nei confronti di Bossari. Il conduttore del popolare programma di Italia 1, Mistero, è stato attaccato dai compagni di avventura Geremias Rodriguez e Ignazio Moseri in seguito alla nomination proposta proprio nei confronti del figlio del ciclista? Ai due si sono poi uniti altri protagonisti del reality show.Mosera è stato, nel corso dell'ultima puntata, nominato da Bossari in seguito alle sue confessioni sulle presunte amanti. Il figlio del campione italiano di ciclismo è rimasto infastidito dalla motivazione che Bossari ha portato in nomination nei suoi confronti. In difesa di Ignazio Moser sono allora subito intervenuti Giulia De Lellis e Aida Jespica. Lo sportivo è quindi passato al contrattacco, supportato anche dal fratello di Belen, contro il conduttore.L'intervento di Geremias contro Bossari in fiamma Filippa Lagerbac pronta a difendere il compagno, con le unghie e con i denti, è stata Filippa Lagerbac. La svedese è intervenuta sui social network, sottolineando le parole non appropriate che sono uscite dalla bocca del fratello di Belen. Questa cosa la sistemiamo fuori, ha affermato Geremias, una dichiarazione che ha offeso la Lagerbac, probabilmente per il tono e il contenuto. Sul suo profilo Twitter la compagna di Bossari ha quindi scritto di aver avvertito la produzione.La Valletta di che tempo che fa ha poi sottolineato che si traccia di minacce che fanno paura. Non si tratta più del gioco che dovrebbe essere.La stessa frase è stata postata anche sul profilo Instagram della modella svedese, a riconfermare la sua posizione nei confronti di quanto accaduto nell'ultima puntata del programma.La solidarietà dei fan di Bossari e della Lagerbac su Twitter che su Instagram i fan della coppia sono subito intervenuti. Parole di stima e di approvazione sia per la modella svedese che per il conduttore di mistero. Daniele Bossari, nonostante tutto, rischia anche l'eliminazione dal reality show di Canale 5 in seguito alle nomination. Questa settimana, infatti, la sfida per rimanere all'interno della casa dei VIP sarà tra lui e Carmen Di Pietro. Quando le cose arrivano alle minacce, ha proseguito la Lagerbac, sono gravi. Ognuno è responsabile delle proprie azioni, sia nella vita reale che nel gioco. Qui siamo andati oltre. La produzione non si è ancora espressa su quanto accaduto, nonostante l'intervento e le sollecitazioni della Lagerbac. Nelle prossime ore si saprà, forse, qualcosa nel merito. Nel frattempo l'avventura di Bossari all'interno della casa continua.commenta per primo.